Ciao a tutti voi da Rosi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la nostra vetrina dell'auto e oggi siamo in compagnia della Milcar, una concessionaria dove troverete tanta professionalità ma anche tanta simpatia ed è importante anche questo. Accanto a me Michela che saluta, ciao Michela e naturalmente Francesco. A te Francesco. Ciao Rosi, grazie. Un caloroso benvenuto a tutte le persone che ci seguono. Ci troviamo nella concessionaria Milcar in via Gallarate numero 70, facilmente raggiungibile dall'imbocco dell'autostrada. Vi ricordo brevemente il percorso, uscendo dall'autostrada all'uscita di Castronno, subito allo stop a sinistra, a rotonda a sinistra, 800 metri ci raggiungete. Siamo sulla strada principale quindi molto facile e visibile la concessionaria. Ad accogliervi ci sarò io, Francesco Gramaglia, Michela e il mio collega Sergio che sta arrivando al volo. Eccolo. Ciao Sergio, saluta. Ciao. Tutti. Ecco il collega Sergio. Vi ricordo che abbiamo anche la sede a Varese in via San Vito Silvestro al numero 32 dove ci sarà Elena e Carlo con la stessa professionalità che troverete qui a Gazzata e la troverete anche a Varese. Bene, adesso andiamo a presentare le auto. Sergio lo mandiamo a lavorare. Ciao Sergio, buon lavoro. Ciao Sergio. Andiamo a presentare le nostre auto. Presentiamo la chicca di questo momento che è la Suzuki Ignis nella versione Jinza. Visto che è una chicca la facciamo presentare a Michela, così a meno ce l'illustra. Prego Michela, vai. Grazie Francesco. Finalmente è arrivata nei nostri saloni la Suzuki Ignis Jinza. Un'auto da look raffinato, trendy, caratterizzato da alcuni particolari che la contraddistinguono. Ad esempio il rivestimento che richiama il tessuto utilizzato dai principali stilisti, sia sugli specchietti che all'interno dei sedili. Suzuki Ignis Jinza è un'autovettura edizione limitata, infatti sono stati prodotti solo 100 esemplari. Qui da noi troverete la numero 58. C'è un'etichetta riportata sul poggiatesta all'interno dell'abitacolo, firmata proprio come un vero abito. Ignis Jinza è basato sull'allestimento high top della Ignis, per cui troviamo cerchi in lega da 16, fari fendinebbia, luci diurne a led. Ma con Suzuki Ignis Jinza non sarete solo alla guida di un'auto fashion, ma anche di un'auto sicura. In quanto ci sono i dispositivi di sicurezza, quali resta sveglio, guida dritto e attento frena. Bene Michela, andiamo a presentare la Suzuki Baleno, la nostra compatta di casa Suzuki. In solo 4 metri, un'auto completa di tutto. Si può avere con la motorizzazione... Michela vieni qua vicino a me, mi fa piacere averti vicino. L'auto completa di tutto, si può avere sia con la motorizzazione 1000 turbo da 112 cavalli e 1200 aspirato da 90 cavalli. Nella versione 1200 c'è la possibilità di averla anche col cambio automatico. L'auto nasce ricca di dotazione, già completa di cerchi in lega da 16 pollici, luci diurne a led, luci notturne all'oxeno. L'auto all'interno, nella versione che stiamo adesso presentando, che è la versione top, ricca di dotazione, ha già il navigatore, la retrocamera, il climatizzatore automatico, sedile e volante regolabile in altezza, Curious Control adattivo. Grazie al radar che vi garantisce durante il senso di marcia tutta la sicurezza, potete impostare il Curious Control, il controllo della velocità, e mantenere la distanza con l'autovettura che vi precede. Bene, oggi Suzuki Baleno può essere vostra con soli 6 euro al giorno, quindi un piccolo impegno per avere tanta sicurezza e comodità. Vi ricordo che è un abitacolo spazioso in un'auto compatta, 4 metri per avere 5 porte e la comodità di viaggiare. Adesso andiamo a presentare la nostra piccola di casa Suzuki, la Suzuki Celerio, che ce la presenta la Michela. Presentiamo Suzuki Celerio, 1.000 di cilindrata con 68 cavalli. Con Celerio starete alla guida di un'auto comoda, perché c'è una guida rialzata che vi permette di avere una migliore visibilità, 5 posti veri, 5 porte e l'apertura della portiera a quasi 90 gradi. Inoltre Suzuki Celerio è comoda anche perché ha un bagagliaio più ampio della sua categoria. Tanto spazio in soli 3 metri e 60. Bene, adesso andiamo a vedere la nostra Suzuki S-Cross. Si può avere sia nella versione 2 che 4 ruote motrici, con motorizzazione 1000 Turbo Booster Jet, quindi un motore di nuova generazione a basso consumo. Oppure si può avere nella versione 1400 Turbo, 4 ruote motrici e 1600 Diesel. La versione che stiamo presentando in questo momento è la versione Cool, 1400 4 ruote motrici. La tua vettura è ricca di dotazione, hai già le luci di notturne a LED, diurne a LED, la predisposizione per il navigatore, chiusura e accensione senza l'utilizzo della chiave. Quindi la grossa comodità di tenere la chiave in tasca, avvicinarsi all'auto e aprirla, salire e partire comodamente. La vettura ha un sistema All Grip, quindi semplice da usare, che vi tira fuori da qualsiasi situazione di disagio, neve, fango, ghiaccio o qualsiasi altra situazione. Bene, andiamo a dare un'occhiata alla nostra Suzuki Vitara, il nostro SUV compatto, l'auto ricca di dotazione, questa che stiamo presentando in questo momento è la versione Top, quindi come diciamo prima per la Suzuki S-Cross, stessi accessori, in più Vitara ha anche l'assistenza alla discesa. Bene, adesso passiamo la parola ai nostri colleghi di Varese, a Carlo e Elena. Grazie della linea ai colleghi di Gazzada. Ciao a tutti da Elena e Carlo. Ciao a tutti. Siamo qui nella sede Milcar di Varese, vi ricordiamo che il nostro showroom è in via San Vito Silvestro 32, siamo a due passi dal centro città e abbiamo a disposizione un ampio parcheggio dove accogliervi. Bene, cominciamo con presentarvi la nostra Suzuki Swift. È disponibile nelle motorizzazioni 1.2 dual jet con 90 cavalli e con un motore più performante 1.2 booster jet con 112 cavalli. Entrambe le motorizzazioni sono disponibili anche con motore hybrid. È sorprendente e sempre vincente è il mix di design e sportività dove, alla base, la filosofia della nuova Swift è una vettura equilibrata e divertente che ha i suoi punti di forza nel piacere di guida, nella leggerezza e nell'agilità. Oltre a questo, Swift si presenta completa fin dai modelli d'ingresso con un allestimento prezzo imbattibile, dove rimane alto il motto tutto di serie senza sorprese. Bene Elena, allora a questo punto non ci resta che andare a provare la vettura su strada facendo un test drive. Abbiamo a disposizione diverse vetture per farle eventualmente provare ai nostri clienti e niente, così possiamo vedere anche i dispositivi di sicurezza la tecnologia della vettura che è veramente all'avanguardia. Certo, volentieri, vediamo, verifichiamo la connettività, internet e quant'altro direttamente sulla vettura. Benissimo, è anche cruise control adattivo. Perfetto. È veramente divertente anche da vedere come funziona. Andiamo allora, seguiteci. Eccoci a bordo della Suzuki Swift. Benissimo. Io intanto ho collegato il mio smartphone al sistema infotainment. Perfetto, allora vediamo come funziona l'Apple Cup Play. Eccoci qua, le nostre app. E c'è anche WhatsApp. Benissimo. Allora Carlo, prova a mandarmi un messaggio WhatsApp e che facciamo vedere come funziona. Benissimo. È semplicissimo, basta tenere premuto questo tasto. Manda messaggio WhatsApp a Elena Milarini. Cosa vuoi scrivere? Spettacolo questa macchina. Punto esclamativo. Il messaggio di WhatsApp per Elena Milarini dice spettacolo questa macchina. Vuoi inviarlo? Sì. Ok, inviato. Eccolo qua. Ed è arrivato in tempo. Ovviamente il comando vocale è attivabile anche dai comandi Bluetooth sul volante. Benissimo Elena, dove vuoi andare di bello? Portami alla Rinascente a Milano. Ok, fantastico. Andiamo a fare shopping. Benissimo. L'Adaptive Cruise Control è possibile attivarlo semplicemente premendo un tasto sul display, che è questo. Potete ben vedere, con questo tasto io posso andare a scegliere la distanza da tenere con la vettura davanti. In questo caso ha una buona distanza e in autonomia, assolutamente automaticamente in autonomia la vettura va ad accelerare e frenare automaticamente. Chiaramente nel momento in cui dovesse raggiungere la velocità di 70 km orari, il sistema va a fermarsi e la velocità si fissa a 70 km all'ora, come vedete. Bene Carlo, benissimo. Bene Carlo, benissimo, hai spiegato in maniera eccezionale. Sta frenando assolutamente da sola la vettura, proprio per tenere la distanza di sicurezza. Esatto, lui non sta frenando e vi garantisco io che vedo tutto e ho tutto controllo. Benissimo, adesso si è sganciato proprio perché ha cambiato direzione della macchina davanti. Benissimo. Ok Carlo, bellissimo. Ok, allora parliamo di prezzi. Pensate che la vettura che abbiamo appena provato, quindi la 1200 Dual Jet con 90 CV Hybrid, così completa come l'avete vista, quindi con tutte le connettività, il modello top, vernice metallizzata, IPT e addirittura i 5 anni di garanzia, la potete avere a partire da 7,50€ al giorno. Mentre per il modello Easy partiamo da 5,50€ al giorno con una vettura già molto ben accessoriata. Benissimo, gli importi che vi abbiamo detto sono ovviamente stati calcolati senza anticipo. Le nostre vetture si possono acquistare quindi senza dare una parte di acconto, senza problemi. Viceversa per chi vuole dare un acconto ovviamente gli importi diminuiscono. Certo, la rata si abbassa, normale. Perfetto, nei servizi finanziari possiamo aggiungere una serie di servizi importanti, tenete presente che la Suzuki Milker di Varese vi dà la possibilità di essere vicini al centro per cui sempre disponibili non soltanto per la vicinanza del centro ma anche perché i servizi che vi diamo sono completi, veramente completi. E servono a proteggere il valore della vostra vettura che avete acquistato, il valore d'acquisto per intero. Perfetto. Allora non ci rimane che salutarvi, vi ringraziamo per l'attenzione, vi mandiamo un grossissimo bacio a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Arrivederci. Bene, siamo giunti alla conclusione, vi invito a venirci a trovare, vi ricordo che siamo aperti anche domenica 20 maggio, veniteci a trovare così potete vedere e provare le nostre vetture. Un saluto da parte mia, da Michela, buonasera a tutti, da Sergio, ciao a tutti e dalla Rosi, ciao a tutti. Un bacione, ciao. 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 Ciao.